L'olio siciliano esce dall'anonimato e viene riconosciuto come prodotto d'eccellenza. Con il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, adesso si potrà contare su un marchio unico, i GP Sicilia. Coloro che vorranno sollevare obiezioni avranno tre mesi di tempo, poi il riconoscimento sarà definitivo. La Sicilia, con una produzione media di 350.000 tonnellate di olive, è la terza produttrice in Italia, dopo Toscana e Calabria, con un mercato da 160 milioni di euro l'anno. Ennesimo passo in avanti, quindi, dopo la doc per il vino, di un prodotto riconoscibile e tracciabile, la cui vendita all'estero porta ottimi risultati. Congratulazioni anche dal commissario europeo all'agricoltura, Phil Logan, che si è rivolto ad agricoltori e produttori di olio, i quali devono andare fieri di avere prodotti di alta qualità che possono aspirare a tale riconoscimento. Il successo dell'olio IGP della Sicilia è un successo importante, perché è da un lato una misura compensativa rispetto all'apertura del mercato della Tunisia con le importazioni dei 70.000 tonnellate libere da Dazi, ma dall'altro lato è un grande vantaggio per i nostri produttori, perché potranno esportare utilizzando un brand, un nome noto internazionalmente. Quindi potremo vendere l'eccellenza agroalimentare siciliana, insieme con la cultura e le tradizioni del nostro territorio, affascinando quelli che saranno i compratori sul piano globale, ma soprattutto facendo valore aggiunto per i nostri produttori.